Maestro, allora, c'è un aneddoto carino che riguarda Federico che aveva una gran voglia di girare, di tornare a girare. Il 1980, Franzi Scoppola scrive a tutta una serie di personaggi mondiali per chiedere una testimonianza e un sostegno alla possibilità che gli possa utilizzare Vittorio Stolaro in un suo film in America, nonostante i sindacati non gli danno dei permessi. E c'è una lettera bellissima di Federico Pellini in risposta che dice quanto siete belli o questo Apocalypse Now vostro, eccetera, tu e il film con Vittorio che state preparando una cosa. Io in questo momento storico sto totalmente amando e volendo tentare di girare qualcosa che non riesco a preparare per le solite storie finanziarie, un film. Io girerei qualsiasi cosa, anche le immagini gialle dell'album del telefono. Mi sono trovato una cosa bellissima, tanto è l'amore per il cinema.